Come cambia il rapporto tra input e output e come si combinano nel produrre dati? Il banale effetto dell'innovazione tecnologica cambia il modo con cui i dati si raccolgono, gli strumenti che sono a disposizione per la fase di processi e analisi di questi dati, la validazione, la correzione e poi anche la diffusione avviene con strumenti diversi. Questa innovazione, queste modifiche del modo con cui si fanno le cose hanno dei riflessi su come guardiamo alla qualità? Grazie per l'invito, per la scelta di questi temi per la seconda giornata italiana della statistica. Sono d'accordo con Filippucci che abbiamo un po', eravamo lì a sentire gli informatici che scalpitavamo un pochettino, anche se devo dire che lo statistico di Padua se l'è caduta molto bene. Allora, l'innovazione tecnologica tipicamente mette in discussione un processo produttivo e quindi naturalmente non c'è dubbio che nella nostra filiera della acquisizione, elaborazione e diffusione, da sempre l'innovazione ha modificato il modo di produrre. E credo che storicamente, se vogliamo fare una valutazione di questo tipo, lo possiamo fare analizzando i censimenti. Ogni dieci anni abbiamo un'occasione rilevante di produzione in cui mettiamo in ballo tutte le innovazioni metodologiche, tecnologiche, organizzative. Diamo il meglio come sistema, anche approfittando della rilevanza della produzione e delle risorse che il Paese ci dà in quelle occasioni. Quindi, se vogliamo studiare questo, io credo che le occasioni censuari ci possano aiutare. E certamente anche questa tornata censuaria è stata un'occasione di grande innovazione. Ci sono state diverse occasioni in cui abbiamo visto il profilo dell'innovazione profonda che ha messo in atto l'Istituto, che poi è un patrimonio per il sistema statistico intero. Nel nostro campo, quando parliamo di innovazione tecnologica, ci riteniamo essenzialmente a che cosa? All'acquisizione e produzione di dati in formato digitale, anche attraverso tecniche di rilevazioni basate su nuove tecnologie, e alla digitalizzazione dell'intero processo produttivo. Quando parliamo di innovazione tecnologica nel nostro campo, credo che facciamo riferimento essenzialmente a questo. Allora, quali sono i principali riflessi di queste tecnologie? Allora, intanto, certamente una riduzione dei costi di acquisizione, ma non soltanto, anche di organizzazione, di conservazione delle informazioni e soprattutto della diffusione. Anche gratuita e capace di essere molto penetrante nei confronti degli utenti. E i drivers di questo effetto sono tipicamente il minor costo e maggiore potenza degli strumenti di calcolo, i software che non solo sono meno costosi, ma sono anche più facili da utilizzare, e tutta una serie di tecnologie che permettono di ridurre i costi. Naturalmente questa riduzione dei costi ha anche aspetti negativi, perché se è una buona possibilità per la statistica ufficiale, naturalmente può generare anche principianti nella produzione dei dati, come in qualsiasi bene in cui i costi di produzione si riducano. A fronte della riduzione dei costi abbiamo anche un secondo effetto, la riduzione dei tempi, grazie alle rilevazioni che possono essere fatte nel continuo, a trasmissioni e comunicazioni per via telematica, a controlli in itinere sulla qualità del processo e anche su questo, il censimento è stato un banco di prova, e quindi anche i tempi della produzione e soprattutto della diffusione, anche in questo caso, si sono ridotti e sono un altro aspetto dell'introduzione delle tecnologie. Ancora un terzo effetto è certamente il maggior dettaglio di cui disponiamo, grazie alle tecnologie, soprattutto nel tempo e nello spazio. E questo è dovuto, oggi abbiamo parlato di big data, a nuove strumentazioni di misura, quindi dovute alla diffusione di tecnologie sensoriali, comprese la fotografia digitale, strumenti di monitoraggio del territorio e dell'ambiente, l'elaborazione di immagini, quindi nuovi strumenti che hanno consentito, nello spazio e nel tempo, di acquisire dati in maniera continua. E quindi questo è sicuramente un effetto importante, ma i tanti dati, il maggior dettaglio, deriva anche da altre questioni, per esempio dal miglioramento delle tecnologie per la sicurezza. Il fatto che la rete è diventata più sicura, grazie a tecnologie, ha fatto sì che le transazioni economiche si sono sviluppate attraverso l'e-commerce. L'e-commerce è un effetto delle tecnologie ed ha generato una quantità di informazioni enorme sulla rete, più o meno protette, che riguardano transazioni economiche. E ancora le normative hanno approfittato delle tecnologie informatiche e hanno reso obbligatorio l'istituzione di archivi che anche qui hanno aumentato l'informazione e il dettaglio, rendendo possibile la produzione di dati amministrativi continua nel tempo. Quindi un effetto secondario esercitato questa volta dalle normative che hanno approfittato comunque nuove tecnologie. E naturalmente un altro effetto delle tecnologie è l'enorme disponibilità di informazioni presente sulla rete. Se ne è parlato prima con quei flussogrammi e con quelle altre rappresentazioni che ci hanno fatto vedere i colleghi informatici, ci sono molti dati e fondamentalmente, soprattutto nel linguaggio naturale, quindi in forma o non strutturata o parzialmente strutturata, che sono un altro elemento nuovo generato dalle tecnologie. Un quinto effetto può essere considerato relativo alla riduzione del fastidio statistico. Questo è un altro effetto sulla produzione della statistica e soprattutto appunto l'indagine senza contatto grazie all'utilizzazione degli archivi o forme intrusive di indagine consente una riduzione di questo fastidio. Aspetto importante, ma le nuove tecnologie hanno provocato anche l'effetto opposto, perché nello stesso tempo se è diminuito il fastidio statistico per la produzione statistica ufficiale, invece ha aumentato enormemente il fastidio statistico per quanto riguarda l'utilizzo di altri soggetti delle nuove tecnologie. Per produrre dati è una parola grossa, però diciamo per prendere informazioni di qualche tipo dagli utenti. E infine, un altro elemento sicuramente importante generato da nuove tecnologie nella statistica è la maggiore complessità nella gestione della sicurezza e della riservatezza. Il fatto di utilizzare le tecnologie rende naturalmente sempre più importante e complicato far fronte a quanti invece cercano di catturare in maniera fraudolenta le informazioni sulla rete. Ecco, questi sono degli effetti rilevanti che sono scaturiti dalla tecnologia sulla produzione statistica e naturalmente l'impatto di tutto questo è diverso. Diciamo che si può avere una visione pessimistica e parlare giustamente di diluvio statistico, di diluvio nella comunicazione di dati, nella generazione di molto rumore più che di informazione statistica e in generale della generazione di un disorientamento e di sfiducia nei confronti delle informazioni da parte dei cittadini e in generale una riduzione della credibilità della statistica in generale dovuta appunto a un'informazione di cui è difficile la selezione di quella che è affidabile o non affidabile, in cui è difficile capirne l'accuratezza e tutto quanto. Diciamo sicuramente un'informazione quasi sempre non pertinente se vogliamo nominare le dimensioni della qualità. E quindi possiamo vedere questo come un grande svantaggio, diciamo addirittura un rischio dell'intero sistema dovuto all'utilizzo improprio delle nuove tecnologie e quindi questo implica naturalmente che le autorità statistiche debbano preoccuparsi non soltanto di chiudersi nel recinto della statistica ufficiale dispensando certificazione ai vari soggetti, ma è un problema paese che dobbiamo affrontare in qualche modo. Certamente la certificazione dei soggetti, l'idea della SIS, di accreditare lo statistico professionale, vanno nella direzione giusta, ma è un problema serio che ci dobbiamo porre perché la credibilità delle nostre buone statistiche ufficiali è messa in discussione da comunque una situazione molto differente. D'altra parte stiamo in un paese che non è abituato a selezionare i numeri giusti da quelli sbagliati e che per certi versi non vede l'ora di accumulare la statistica, la matematica, per la quale ha un'antica diffidenza. E quindi è una sfida sicuramente di sistema importante. La valutazione può essere tuttavia naturalmente ottimistica perché non c'è dubbio che le tecnologie sono certamente una straordinaria possibilità di raccogliere, elaborare e soprattutto utilizzare le informazioni statistiche. Quindi è un'occasione di crescita del sistema di produzione da sfruttare sicuramente nella direzione di un maggiore utilizzo della statistica. Perché il problema che abbiamo nel paese non è la produzione di una buona informazione statistica, ma è quello di rendere questa informazione conoscenza, cioè utilizzata dai nostri destinatari. E allora, certamente, da questo punto di vista, diciamo che le nuove tecnologie consentono una gestione della complessità in grado di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema. Ecco, io credo che è questa l'opportunità delle nuove tecnologie. Il fatto di poter ragionare nel multidimensionale, nel riuscire a utilizzare più elementi in tutte le fasi e quindi fare meglio in tutte le fasi del processo, qualche esempio, tipicamente nella diffusione. La diffusione è quella che ha utilizzato di più le nuove tecnologie, nel bene e nel male. I migliori esempi di progresso li troviamo alla diffusione, ma anche i peggiori, perché poi il diluvio è soprattutto diluvio di comunicazione, che è una forma della comunicazione. Quindi la diffusione è quella che certamente ha fatto più uso delle nuove tecnologie, sfruttando il fatto che può essere anche gratuita e molto efficace. Allora, la diffusione personalizzata per tipo di utente, multicanale, quindi con diversi prodotti, o multiformato, consente di tenere conto nella programmazione non solo di diversi livelli di dettaglio, a seconda del tipo di utenti, ma anche di diversi linguaggi, di diversi paradigmi interpretativi. E quindi la diffusione può migliorare moltissimo, grazie a questa diversità che può tenere conto con riferimento agli utenti. Come anche la diffusione si giova moltissimo di strumenti interattivi, in cui è personalizzata non solo dal punto di vista del formato, ma dal punto di vista della informazione selezionata direttamente dall'utente. è il caso dei data warehouse, il data warehouse istat, ma anche di altre forme nuove come il single exit point e altre modalità nuove con le quali comunica l'istituto, il sistema statistico nazionale, che consente appunto una selezione direttamente dell'utente dell'informazione. E questo è una cosa importante, non solo perché permette di dare in modo personalizzato l'informazione, ma anche per avere un feedback dall'utente, perché si apre un canale di comunicazione in cui il sistema capisce quali sono i fabbisogni, capisce qual è la soddisfazione dell'utente nei confronti del prodotto e così via. L'altra questione della diffusione che migliora grazie alle tecnologie riguarda la diffusione integrata di informazioni provenienti da diverse fonti. non c'è dubbio che anche questo, in quanto risultato di integrazione, che è un parente stretto, naturalmente l'innovazione, perché si serve fortemente di innovazioni di carattere sia metodologico, sia informatico, strumenti di calco e così via, la diffusione integrata, soprattutto di microdati, è un altro elemento innovativo su cui puntare e che certamente è il risultato di tecnologie, sia nelle modalità in cui si assicurano questi prodotti, nelle verifiche che si possono predisporre per il loro rilascio e così via. Quindi il discorso dei microdati, del data archive, eccetera, è sicuramente una scommessa importante e qui si tratta di trovare soluzioni che garantiscano l'utilizzo dell'intero patrimonio dal punto di vista dell'utente e che garantiscono la titolarità nella produzione, nella custodia delle basi di dati. Questa è la scommessa, quella di mettere insieme, mantenendo comunque le varie titolarità. Questa è una cosa su cui investire, è la scommessa. Oggi abbiamo parlato di open data e così via, ma certamente questo tema dell'integrazione è quello più rilevante come possibile risultato di innovazioni metodologiche, tecnologiche e organizzative. Dal punto di vista dell'acquisizione dei dati, passando dalla diffusione, diciamo che grazie a nuove tecnologie ci sono due situazioni diverse che si sono manifestate recentemente, che sono da una parte la maggiore frequenza di acquisizioni con tecniche miste, per cui non c'è più la scelta fra il tipo di contatto, personal interview, contropostale, telefonico, via web, ma oggi c'è la tecnologia, diciamo si usano più tecniche. E questa è una grossa sfida, da un punto di vista metodologico e da un punto di vista organizzativo, perché quando noi progettiamo un'indagine dei tempi, i tempi sono diversi a seconda di queste modalità, quando progettiamo un questionario sappiamo bene che questo sarà diverso se viene ascoltato per telefono o viene letto direttamente dal rispondente. Quindi questa questione del misto è un tema complesso su cui c'è da fare un ragionamento. Ed è una situazione inevitabilmente che si proterrà nel tempo, perché via web sappiamo che ci vorrà ancora un po' di tempo per avere la possibilità di fare un'unica soluzione alla nostra indagine, perché c'è un problema di banda sul territorio e così via. Quindi da una parte c'è questa tendenza all'acquisizione mista, da un punto di vista tecnica. Dall'altra c'è invece, per la prima volta, la possibilità di fare indagini interamente in forma digitale. Che cosa è che diventeranno normali, ma che oggi già possiamo affrontare. Perché sul piano amministrativo oggi ci sono degli obblighi da parte delle imprese e dei cittadini ad accreditarsi nei confronti della pubblica amministrazione, di un sistema di solito pubblico, per avere dei servizi, eccetera, e per cui c'è la possibilità di avere la possibilità di raccogliere soltanto in formato digitale le informazioni. E sono, diciamo, delle prime occasioni importanti e quindi anche su questo tema c'è sicuramente un investimento da fare e, diciamo, c'è la possibilità effettivamente di mettere in piedi qualcosa di nuovo per sfruttare questa cosa. Terza questione sull'acquisizione, quella di cui si è parlato oggi pomeriggio, è questa faccenda delle informazioni sulla rete, cioè di informazioni che sono lì esterne rispetto alla nostra indagine, che tuttavia ci sono, sono molto diffuse, non ci dobbiamo fare impressionare dai numeri, a me non mi ha convinto affatto che sia migliorata la stima del numero di passaggi passando da 300 a 300 milioni, perché noi sappiamo benissimo che il punto è come si selezionano quei numeri, se sono un campione oppure no, per poter essere affidabili rispetto a una popolazione e così via. Quindi, diciamo che non è che ci abbia convinto come statistici, però certamente ci sono dei numeri importanti, ci sono queste informazioni sulla rete. Allora io credo, e non so se i miei colleghi sono d'accordo, che non come misure di qualche fenomeno di interesse, ma come variabili ausiliarie, io credo che dobbiamo trovare il modo per utilizzarla. selezionandole, testandole, non naturalmente per garantire che abbiano qualità, io non parlo di variabili interesse, parlo di variabili ausiliari. Io credo che nella predisposizione di un disegno di campionamento, il fatto di utilizzare anche informazioni ausiliari di quel tipo è una cosa che ci dobbiamo porre, come anche per modelli predittivi o interpretativi di fenomeni, in cui quegli elementi sulla rete possono rappresentare delle proxy, come è stato detto, capaci di migliorare la performance, e così via. Quindi io credo che questo anche sia un tema su cui bisognerebbe, varrebbe la pena tentare, perché sono delle informazioni che ci sono e naturalmente anche qui la selezione di quelle informazioni è un elemento importante, perché poi la rete può vuol dire tante cose, si possono considerare degli insiemi di informazioni che sono già in qualche modo autoselezionate, perché stanno all'interno di battiti o di portali specializzati in qualche campo, e così via. Comunque, questo tema della utilizzazione delle informazioni della rete io credo che valga la pena da prendere in considerazione, sia per disegni di indagine, sia per modelli. Oggi Panconesi ci nominava il predicting of present di Varian, quello è il tema diciamo su cui c'è già dei lavori in piedi e così via che mostrano la possibilità di leggere alcuni fenomeni con quelle informazioni. Devo dire che anche Don Vito ci ha fatto degli esempi nella sua presentazione di un paio di casi in cui quelle informazioni possono essere collegate a dei fenomeni usualmente studiati dall'Istituto Nazionale di Statistica. Allora, ancora qualche minuto, un paio di minuti, ma avrei parecchie altre cose da dire, ma qualche cosa sulla qualità. Allora, intanto io credo che il tema cruciale sia passare da una valutazione ex post della qualità a una programmazione della qualità. Questo è il tema rilevante in cui possiamo provocare effettivamente miglioramenti. È quello che facciamo da molto tempo per le indagini campionarie, ma che si può e si dovrebbe fare per qualsiasi processo di acquisizione di dati. Vuol dire investire nella progettazione, vuol dire non sostituirci alla valutazione ex post, ma far diventare la valutazione ex post alla fine del processo produttivo come un momento di verifica tra la qualità programmata e la qualità che effettivamente siamo riusciti a conseguire. Il fatto di investire nella qualità in fase di progettazione io credo che sia un elemento importante. Come d'altronde è importante conoscere i costi della qualità. Io non ho visto molti studi a parte le questioni campionarie su quanto costa innalzare la qualità. Quali sono i benefici di un innalzamento in un certo livello di qualità. Qual è il costo di una scarsa qualità del mancato miglioramento della qualità. Io credo che quindi in termini in fase di progettazione occorra spostare l'attenzione su quella parte lì. Da un punto di vista delle dimensioni di qualità il quadro il frame è molto avanzato. io non credo che ci siano questioni legate alle dimensioni della qualità per quanto riguarda i prodotti ma certamente sono i prodotti che sono nuovi che hanno bisogno quindi di nuovi indicatori come ci diceva anche Filippucci per poi misurare la qualità. Quindi i temi sono quelli lì sono l'accuratezza la tempestività e così via ma i prodotti sono cambiati e quindi dobbiamo imparare a trovare delle misure di quegli elementi nuove io solo uno ne aggiungerei la effettiva utilizzazione del prodotto perché se la sfida è quella di utilizzare l'informazione statistica noi dovremmo sempre più misurare l'effettiva utilizzazione della statistica quindi questa potrebbe essere un ulteriore elemento accompagnare nella valutazione della qualità il prodotto non solo fino all'utente ma fino alla utilizzazione e l'altra cosa che vorrei dire a questo proposito riguarda proprio il fatto che oggi con la progettazione di strumenti finalizzati all'utente in cui l'utente può scegliere il contenuto informativo noi dobbiamo immaginare di passare dalla valutazione della qualità della fonte della variabile alla valutazione a livello di dominio di studio di utilizzazione dobbiamo cercare di accompagnare quel processo di personalizzazione con delle misure della qualità che quindi riguarda oggi non è tanto importante sapere quella variabile che livello di accuratezza ha o che tempestività ma io lo voglio sapere a quel dettaglio territoriale su quel sotto insieme e così via e molti di questi elementi variano al variare del dominio di studio quindi dobbiamo provare ad accompagnare alla personalizzazione anche dei parametri di qualità diciamo per dominio e poi dato che io credo molto nell'integrazione e soffro per le mancate integrazioni io proporrei di introdurre con nuovi errori mancata integrazione totale e parziale il rifiuto dell'integrazione e così via perché è sempre meno tollerabile che con risorse pubbliche si producano dati e poi i soggetti che per istituzione li debbano utilizzare non riescono a farlo lo dico come operatore pubblico della ricerca e sono molto interessato a quanto ci dicevano i colleghi nella precedente tavola rotonda di quello che succederà nei prossimi 120 giorni ma continuo a ritenere che su questo tema dell'integrazione ci sia ancora molto da fare e io sono per l'integrazione programmata non andiamo dietro all'integrazione ex post magari essendoci preoccupati che ci siano le stesse classificazioni per riuscire a collegare le basi dati ma noi dovremmo puntare a programmare archivi che consentano poi di avere basi dati comuni da condividere addirittura appunto in fase di progettazione quindi come per la produzione anche per gli archivi dovremmo passare ad anticipare tutta la valutazione della qualità grazie grazie a professore Aleva anche per averci fatto come dire portato in un tour guidato delle diverse fasi del processo di produzione cercando di capire come l'innovazione va a modificare anche il modo con cui facciamo le cose e quindi questo ha implicazioni per la qualità a me piaceva sottolineare un aspetto perché poi dobbiamo fare quando si parla di innovazione e soprattutto di grandi progetti l'Istat ha un grande progetto di innovazione e modernizzazione che si chiama Stat 2015 che come ricordava anche Domenico nel suo intervento si fanno scelte strategiche manageriali e l'analisi costi benefici quindi quanto costa innovare e che benefici ha non può prescindere dagli elementi di qualità se noi non siamo in grado e questo lo voglio sottolineare è giusto se noi non siamo in grado di misurare in qualche modo anche il vantaggio di qualità oltre ai riduzioni dei costi ai vantaggi di efficienza di alcune modifiche del sistema produttivo dei dati è difficile poi argomentare anche a favore di investimenti grossi i cui benefici si vedranno solo nel tempo qui stiamo parlando comunque di infrastrutture per l'acquisizione la diffusione e l'analisi nel processo di produzione dei dati che sono costose e che non danno immediato risultato e allora in questo senso appunto gli inglesi parlano di value for money quando si fanno questo tipo di analisi dobbiamo portare anche la dimensione della qualità all'interno del value for money ahimè in tutte le poche occasioni in cui finora mi è capitato di stare in contesti internazionali con altri studi di statistica mi sembra che questo sia un dilemma che nessuno ha risolto cioè tutti si trovano a dover progettare l'innovazione senza aver chiaro bene qual è il flusso netto di costi e benefici del futuro nel futuro e quindi poi insomma il valore attuale di questi costi e di questi benefici quindi di fatto facciamo un po' innovazione al buio se non abbiamo questo tipo di framework che si trovano non è il flusso è il flusso